Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caloroso buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori Domenica Viola, oggi in campo infatti le women's di Mister Cincotta che hanno battuto 4-2 la Florenzia di San Gimignano nel derby toscano Debutto da sogno per Paloma Lazzaro che ha firmato una doppietta Elisa Devanna che allo scadere ha trovato il primo gol in Italia alla prima partita L'altra rete è stata realizzata da Cordia mentre di Dongus e Kelly i gol dei neroverdi Ma non solo women's, adesso in campo la primavera di Emiliano Bigica che affronta il Bologna al Bozzi di Firenze Questa è la formazione scelta dal tecnico Gigliato Chiorra, Ponsi, Duto, Dallemura, Simonti, Anulac Fiorini, Gorgos, Coffi, Duncan e Pierozzi Infine, giornata di Serie A rocambolesca con tanti gol Termina 1-2 l'anticipo delle 12.30 tra Genoa e Atalanta Alle 15 alla spalla battuto in rimonta la Lazio 2-1 a Ferrara Rimonta anche il Bologna contro il Brescia con 4-3 finale Il Cagliari vince trasferta a Parma 3-1 In golle anche l'ex Viola Simeone Ora in campo Roma Sassuolo Chiude stasera Verona Milan Per Fiorentina1.com Pasquale De Stefano